Rientriamo in studio. È stata una serata interamente dedicata ai donatori di sangue, quella di venerdì scorso al cinema Miramare. Ridere fa buon sangue, questo il titolo dell'evento organizzato dal servizio trasfusionale, diretto dal dottor Mario Manca. Un'occasione per ringraziare quanti in questi anni con le loro donazioni hanno contribuito a dare speranza a chi ne aveva bisogno. Ad inizio serata sono stati premiati due donatori che si sono distinti per la loro generosità. Il direttore generale dell'ASL, Marcello Giannico, presenti all'incontro insieme al direttore della struttura algherese, hanno tracciato un breve resoconto che ha messo in evidenza i risultati ottenuti. Nell'ultimo anno il servizio trasfusionale di Via Domminzoni è stato interessato da una serie innovativa di cambiamenti, sia sul piano dell'assistenza, con un incremento di circa il 10%, che su quello della produzione di emocomponenti, che ha raggiunto la quota di 5.000 unità, toccando il massimo storico. Dai dati del servizio trasfusionale di Alghero si ricava che dal 2010 al 2011 il settore di aferesi produttiva e terapeutica di nuova attivazione ha ampiamente superato gli obiettivi nazionali e regionali. A fronte di un incremento auspicato del 5%, si è arrivati in poco più di sei mesi di attività ad un aumento di oltre il 10%. Di recente, in considerazione della crescente attività del servizio e le necessità imposte dalle norme sull'accreditamento delle strutture trasfusionali, l'ASLA ha individuato per il servizio trasfusionale di Alghero nuovi locali, che consentiranno di migliorare l'accoglienza dei donatori e lo svolgimento dell'attività istituzionale. Questi risultati altamente positivi, ha concluso Mario Manca, sono stati possibili solo grazie all'imponente adesione dei nostri donatori al progetto proposto dal servizio trasfusionale, e senza i quali tutto l'impegno, sia da parte dell'azienda che degli operatori, sarebbe stato vano. La serata si è conclusa con la spassosa performance del gruppo musicale Il Duodeno e dell'attore comico Ernesto Maria Ponte. E restando in tema l'Avis comunale di Alghero, organizza in collaborazione con la direzione didattica del Terzo Circo una raccolta di sangue per questo sabato 3 marzo. Dalle 8 alle 12 sarà presente presso la scuola materna di Via Matteotti l'equip medica dell'Avis provinciale a disposizione di tutti coloro che vorranno fare la donazione. L'Omnium Cultural dell'Algè in collaborazione con il Centro Servizi Culturali della Società Umanitaria continua nell'attività di promozione del concorso video per la realizzazione di fiction o documentari in catalano di Alghero dal titolo Arres S2, i premi in denaro da 600 euro. L'Omnium Cultural dell'Algè in collaborazione con il Centro Servizi Culturali della Società Umanitaria continua nell'attività di promozione del concorso video per la realizzazione di fiction o documentari in catalano di Alghero, con due premi in denaro da 600 euro. L'obiettivo del bando è quello di diffondere l'uso della nostra lingua, in particolare fra le nuove generazioni. Da qualche settimana pertanto è iniziata la consegna del bando di concorso nelle scuole cittadine, associazioni culturali e sportive e in tutte le realtà associative che operano in città e nel territorio. Ai partecipanti che non dominano perfettamente il catalano di Alghero sarà messo a disposizione un servizio gratuito di consulenza linguistica a cui è possibile accedere contattando l'indirizzo e-mail francesc.arreses.gmail.com. Sono ammessi tutti i formati di ripresa più comuni, dv, mini-dv, hdv, riprese realizzate con il telefono cellulare e macchine fotografiche. Non è necessario che le opera siano inedite. La scheda di partecipazione e il bando di concorso sono disponibili presso Omnium Cultural dell'Alghè in via Carlo Alberto 33 e si possono ritirare nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 18 alle 20, ma anche nella Mediateca della Società Umanitaria di via Marconi dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 14. Possono inoltre essere richiesti online agli indirizzi di posta elettronica omnium.algè.chiocciolayao.it e umanitaria.alghero.chiocciolalibero.it o direttamente scaricabili dalle pagine web www.algè.it e da Facebook Arreses. A questa iniziativa collaborano Alghè.it e CatalanTv. E ritorna su CatalanTv l'appuntamento con gli speciali di Ma che bontà, protagonista della puntata di questa settimana, l'ortolano Tonio Tilocca. Dopo aver parlato di dolci, olio e della produzione di pane, quest'oggi vi facciamo scoprire i segreti della terra e dell'orto della società agricola Oasi di via degli orti ad Alghero. Il lavoro, le produzioni e le fasi della coltivazione saranno i temi trattati in questa puntata. L'appuntamento è per questa sera alle 15 e poi alle 21. A seguire andremo dalla seconda parte della puntata di genti dell'Alghè condotta da Giancarlo Sanna con protagonista Pino Sanna. Ma sentiamo adesso un estratto dalla puntata di quest'oggi di Ma che bontà. Noi siamo curiosi di sapere con il nostro speciale Ma che bontà andiamo alla ricerca ovviamente dei prodotti tipici locali e non solo. Quindi andiamo un pochino a curiosare all'interno delle aziende per conoscere i segreti delle produzioni locali. E quale produzione locale migliore di questa? Cioè dalla frutta alla verdura? Sì sì, proprio siamo qua nella strada degli orti, la vecchia strada degli orti. Abbiamo deciso di fare l'orto qua così la gente non sta a spostarsi e prende i sapori dell'orto subito appena raccolta la roba. Dunque dal produttore al consumatore è bellissimo il fatto che comunque le persone possano recarsi anche a piedi e venire ad acquistare i prodotti come sta dicendo lei direttamente raccolti dall'orto che è un orto poi alla fine in città. In città, è l'unico orto in città, come c'era una volta. E ad ora lo sport ha riscosso molto interesse. La manifestazione organizzata sabato pomeriggio nella palestra New Power si è disputata la seconda edizione del No Rules Grand Prix Grappling. Il No Rules Grand Prix Grappling svoltosi sabato presso la palestra New Power è stato organizzato dagli istruttori Giovanni Mulas e Dario Marras. Ha visto confrontarsi gli atleti delle due accademie del No Rules Team. La prima, capitanata da Giovanni Mulas, è la No Rules Team New Power, mentre la seconda, guidata dall'istruttore Dario Marras, la New Rules Team Via degli Orti. La gara prevedeva appunto uno scontro tra le due accademie di grappling, ovvero tutte le arti di lotta di vario genere racchiuse in un'unica disciplina, che ha riscontrato successo a giudicare dal numeroso pubblico presente e interessato. Due le categorie in gara, medio-leggeri e medio-massimi, per un totale di 28 atleti. Per quanto riguarda la prima, è salito sul primo gradino del podio Giancarlo Pinna, seguito da Giovanni Zicconi e Giuseppe Tidu, piazzatosi terzo. Nella categoria medio-massimi, vittoria per Alessio Merella. Al secondo posto troviamo invece Michele Paddeu, Emanuele Secchi ed Emanuele Lugiudice si sono piazzati invece terzi a pari merito. La manifestazione ha tutta l'intenzione di crescere per le prossime edizioni ed è previsto l'inserimento delle Mixed Martial Arts. Un particolare ringraziamento da parte degli organizzatori va a tutti gli sponsor e a Christian Mulas, che ha inoltre presentato l'evento. Ed è l'ultima notizia dell'edizione di oggi del nostro telegiornale, ora il meteo. Grazie come sempre per averci seguito. Arrivederci.